Che cos'è il Natale se togliamo Gesù, così il Papa, l'Angelus, nella Domenica della Gioia? Per vivere al meglio, ha detto, ci sono tre strade, gioia vera, preghiera e continuo rendimento di grazie. Nessuna modifica la legge regionale del 2012, lo chiedono le associazioni che si battono contro la dipendenza dal gioco e non intendono incontrare la regione su questo punto, oggi flash mob a Genova. La grandezza della maternità al centro della Catechesi di Avvento di Flora Gualdani, l'ostetrica fondatrice di Casa Betremme, è stata ospite della trasmissione direttamente su, in onda questa sera su Telepace. La comunità di Sant'Antonio a Sestri Levante ha celebrato la terza Domenica d'Avvento, con un momento particolare dedicato ai bambini del Catechismo. La parrocchia ha ospitato la nostra emittente. Con fuoco di fine anno a Chiavari, un augurio di benessere e serenità da parte del Sindaco, scambio di auguri satirico e in rima, come tradizione, in piazza Nostra Signora dell'Orto. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Che cos'è il Natale se togliamo Gesù? Lo ha chiesto il Papa, l'Angelus della terza Domenica di Avvento, chiamata anche Domenica della Gioia. Francesco ha spiegato i tre aspetti con i quali questa gioia può essere realizzata. Dopo l'Angelus, infine, la tradizionale benedizione dei bambinelli. La sintesi nel primo servizio. Avendo incontrato Gesù, ha detto il Papa in piazza San Pietro, il cristiano non può che essere testimone di gioia. Dopo i richiami precedenti alla vigilanza e a preparare la strada per la venuta del Signore, la liturgia spiega con quale spirito vivere tutto questo, ha aggiunto Francesco, con la gioia costante appunto, la preghiera e il continuo rendimento di grazie. Il Pontefice ha analizzato i tre aspetti. La gioia profonda è la pace che nasce dalla consapevolezza che Gesù abita il deserto che è in noi, fatto di angosce, difficoltà e sofferenze. Poi la preghiera con la quale si può entrare in una relazione stabile con Dio, fonte della vera gioia. Quanto più siamo radicati in Cristo, ha detto il Papa, tanto più siamo vicini a Lui, tanto più ritroviamo la serenità interiore pur in mezzo alle contraddizioni quotidiane. Ed è una gioia questa da condividere e che rende meno faticoso il cammino della vita. Terzo, il continuo rendimento di grazie è la riconoscenza verso il Signore e verso i Suoi benefici. Il Papa ha invitato poi ad affidarsi a Maria a causa della gioia, non solo perché ha generato Gesù, ma perché ci porta a Lui. Dopo l'Angelus, il Papa ha ringraziato i fedeli per il calore dei loro saluti, per gli auguri che gli sono stati rivolti nel giorno del suo 81esimo compleanno. Infine, si è svolta la tradizionale benedizione dei bambinelli. Francesco ha salutato i bimbi che hanno portato la statuina di Gesù, che sarà poi messa nel loro presepe. Quando pregherete a casa davanti al presepe con i vostri familiari, lasciatevi attirare dalla tenerezza di Gesù bambino, nato povero e fragile, in mezzo a noi, per darci il suo amore. Questo è il vero Natale. Se togliamo Gesù, che cosa rimane del Natale? Una festa vuota. Non togliere Gesù dal Natale. Gesù è il centro del Natale. Gesù è il vero Natale. Capito? Come detto, Papa Francesco ha compiuto 81 anni. Nel messaggio di auguri, la Presidenza della CEI ha richiamato una frase pronunciata dal Pontefice in Myanmar. Quando sono tenaci, scrivono i Vescovi al Santo Padre, le radici costituiscono una promessa di futuro, una parabola che si sviluppa dalla lode all'amore, passando per la contemplazione. Tanto stiamo vedendo queste immagini perché in aula Paolo VI i bimbi del dispensario Santa Marta hanno regalato al Papa una festa all'insegna dell'affetto e dell'allegria. Ora veniamo al nostro territorio e torniamo a parlare di ludopatia. Le associazioni della Liguria che si battono contro la dipendenza dal gioco non sono disposte a sedersi al tavolo con Regione Liguria per modificare la legge del 2012. La norma, dicono, va applicata da subito senza nessuna riforma. Sentiamo. Nessuna modifica al testo regionale del 2012. La legge numero 17 di 5 anni fa va applicata così com'è. A dirlo le associazioni che si battono contro la dipendenza dal gioco. La Regione vorrebbe infatti incontrare il mondo dell'associazionismo locale per modificare quella norma. Una riforma, lo ha detto di recente l'assessore Edoardo Rixi, che dia regole omogenee sul territorio e ridefinisca l'impianto normativo. Ma gli enti che conoscono la ludopatia, in primis la fondazione antiusura, non ammettono modifiche o rivisitazioni. La legge del 2012 già tutelava le persone a rischio e imponeva la chiusura delle sale slot nel raggio di 300 metri dai luoghi sensibili come scuole e ospedali. In Piemonte, spiega Alberto Montani dell'antiusura a Santa Maria del Soccorso di Genova, questa normativa è stata applicata perché in Liguria no. La legge avrebbe dovuto entrare in vigore in primavera, ma è stata posticipata di un anno su pressione delle associazioni dei tabaccai e dei commercianti. In questi giorni in Regione Liguria i gruppi, che da anni combattono contro il vizio del gioco, dovevano incontrarsi, ma il tavolo è stato ricusato. Se la Regione accetta di non ridiscutere la normativa del 2012, spiega ancora Alberto Montani, allora saremo disponibili a parlarne tutti insieme, altrimenti vadano avanti con la riforma e le modifiche, ma noi non daremo il consenso a questa operazione. C'è poi il fronte nazionale. I fondi per la lotta alla ludopatia sono bloccati per un errore procedurale in base ad una sentenza del Tar del Lazio. La Regione ha chiesto l'impegno del Governo a risolvere l'impasso. Perché come Liguria noi avevamo l'assegnazione di 1.200.000 euro tutti i progetti realizzati dalle ASL su un tema che è centrale, lo sapete, stiamo lavorando con tutti i protagonisti del mondo che si occupa sia dal punto di vista economico, ma anche del mondo dell'associazionismo e sanitario che si occupa di questo fenomeno, siamo bloccati per mancanza di queste risorse. che in corso d'opera ovviamente non possiamo che non recuperare da altro, ma in attesa che l'errore venga risolto. Proprio su questi temi quest'oggi il mondo dell'associazionismo locale si ritroverà per un flash mob che si svolgerà in piazza De Ferrari a Genova, proprio sotto il palazzo della Regione. A partire dalle 18 sono invitate tutte le persone che hanno a cuore la battaglia contro il gioco. Il titolo dell'iniziativa di protesta è No Slot Mob. Ammonta a 400 mila euro il fondo nazionale assegnato alla Regione Liguria per le famiglie in difficoltà temporanea nel pagamento dell'affitto. Le risorse andranno ad alimentare il fondo di garanzia costituito dalla Giunta Ligure. La cifra, secondo quanto riferito dall'assessore Marco Scaiola, risulta decurtata rispetto all'anno scorso quando alla Liguria erano stati assegnati 1 milione e 300 mila euro. Per questo la somma stanziata dallo Stato va ad aggiungersi a quella già messa a disposizione dalla Regione e con un totale di 1 milione di euro sarà gestita direttamente da Filse. Cambiamo tema, questa sera la nostra trasmissione direttamente su sarà dedicata al tema della maternità che affronteremo dal punto di vista sociale, biologico e spirituale. Lo faremo con Flora Gualdani, ostetrica e fondatrice del Centro di Accoglienza e Formazione Casa Betlemme, ospitata di recente indiocesi per una catechesi promossa dal Movimento per la Vita. Ne vediamo un'anticipazione. Denatalità, infertilità, calo demografico. Le parole di oggi delineano un quadro che per l'Italia certifica una crescita demografica sotto zero. Le cause sono molteplici. Le ha analizzate Flora Gualdani, ostetrica e fondatrice di Casa Betlemme, centro di formazione nella retino che educa la teologia del corpo nella regolazione naturale della fertilità, secondo il Magistero della Chiesa, riconosciuto e promosso dall'allora arcivescovo Bassetti come colonna della pastorale familiare diocesana e dell'intera regione ecclesiastica toscana. La donna è visceralmente madre, nella mente, nel cuore, nel corpo. Il cuore di mamma è uguale per ogni donna. Non c'è differenza di religione, di ideologia, di politica. Si tratta semmai di creare in anticipo una predisposizione all'accoglienza della maternità. Questa predisposizione, analizzata nel corso della trasmissione direttamente su, chiama in causa necessariamente la politica. Qui si tratta anche di un aspetto pratico, politico, sociale. Quando una giovane oggi pensa di generare un bambino e le prendono le cento paure normali, naturali, e dopo chi mi aiuta? E se all'asilo non trovo posto e aiuti la società non me ne dà? Qui si tratta di interrogare la politica. Ma a Monte c'è la consapevolezza di sé, una rinata coscienza del disegno di bellezza a cui ciascuno è chiamato. Ne sono convinti i formatori di Casa Betlemme, che da anni organizzano corsi aperti a tutti di alfabetizzazione bioetica, in un contesto armonico fra rigore scientifico e spessore della spiritualità. Oggi la creatura si sente creatore, no? Mentre invece bisogna ritrovare questo rapporto creaturale. Ed è attraverso questo rapporto in cui io mi sento creatura fatta bene, disegnata bene da un Dio che è padre, buono, e che mi dà gli strumenti per camminare dentro il disegno della mia fertilità. Il primo impatto è quello di vederti bella. Dice ma io sono fatta così, ma io ovulo così, ma allora scopri come si è fatta bene. Ecco che questa fertilità diventa non un ostacolo che fa paura, che va rimosso, ma un dono preziosissimo che va gestito. Inizia oggi la raccolta firme tra i pendolari del servizio ferroviario promossa dalle associazioni dei consumatori per chiedere sanzioni nei confronti di Trenitalia in considerazione dei numerosi disservizi che spesso si registrano sulle linee tra Milano, Torino e Genova. I banchetti saranno riaperti oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, ma ci sarà la possibilità di sottoscrivere il documento anche domani e mercoledì. L'iniziativa fa seguito ai disagi patiti dai pendolari nei giorni 10, 11 e 12 dicembre, quando il fenomeno del gelicidio che ha interessato tutto il Nord Italia ha di fatto bloccato a più riprese la circolazione dei treni. Le associazioni dei consumatori chiedono con una lettera aperta alla Regione di incrementare le sanzioni alle ferrovie per tramutare poi la cifra in rimborsi per i pendolari, ma anche di predisporre un nuovo piano per l'emergenza. Siamo all'informazione religiosa del nostro territorio, la terza domenica di Avvento, come detto è chiamata anche domenica della gioia, della letizia e del gaudio cristiano. I fedeli sono chiamati a rallegrarsi perché l'avvenuta di Gesù è vicina, questo è il senso di quest'ultima domenica. Le telecamere di Telepace hanno condiviso questa festa con la comunità di Sant'Antonio a Sestri Levante, vediamo. Don Luciano, un richiamo questa mattina ad accompagnare arrivare al Natale con Gesù al centro. Mi pare che questo sia un problema, già lo dicevamo anni fa, il rischio di un Natale senza Cristo, oggi lo ancora di più, il Natale è una festa di tutti ed è questo anche bello, ma proprio essendo la festa di tutti, non è solo la festa dei cristiani e c'è il rischio di anacquare l'identità cristiana di questa festa. Mi è sembrato importante richiamare oggi i miei parocchiani a pensare chi metto al centro del Natale, perché sia la festa veramente dell'incontrare nuovamente Gesù come amico della propria vita. in questo incontro con gioia e passione, tra l'altro abbiamo visto tanta gioia in questi bambini che avevi tutti intorno al Natale e hanno portato proprio questo cartello. Noi abbiamo fatto questa scelta che i bambini partecipano alla liturgia della parola separatamente, in modo che i catechisti li aiutano da una parte a comprendere la parola adatta a loro e posso io parlare più agli adulti con un linguaggio adatto a loro. La celebrazione eucaristica è una ed è quella, però si è scelto, Don Luciano ha voluto, un momento che fosse curato e pensato per i ragazzi in cui leggiamo le stesse letture che vengono lette a Lambone, ma con una spiegazione a loro portata, a loro misura, per rendere Gesù ancora più vicino. Oggi dicevamo oggi è giorno di gioia perché Gesù è vicino. Anche la scelta di far partecipare la comunità su tanti canti. Sì, perché è una messa domenicale, è una messa delle domeniche di avvento, è giusto che in queste occasioni anche la presenza del coro diventi punto di animazione e di sostegno del canto del popolo. Il Natale è anche tradizione e ieri una giornata tipicamente invernale, fredda e terza ha salutato il primo confuoco di fine anno che si è svolto a Chiavari, richiamando anche un folto pubblico. Siamo andati a vedere. Chiavari apre la serie di celebrazioni di fine anno nel Tigullio e accende il confuoco prima dei comuni vicini. Anche quest'anno è stata rispettata la tradizione con il solene arrivo del gruppo storico Sestieri di Lavagna e delle associazioni cittadine accompagnate dalla banda della Filarmonica Chiavarese in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Poi lo scambio di auguri fra il governatore dell'Associazione Ucastalu De Ciavari e il sindaco e immancabile la classica tirata d'orecchie satirica dei due mascheri Rebello e Rebellunga. Soprattutto la difficoltà di trovare una rima con Di Capua perché quando uno si chiama Poggi, Agostino, Levaggi c'era. Però è riuscito a farla, ci ha fatto un gioco sulla parola Guspustia Statua ed è riuscito a incalzelarlo bene. D'assoluto buon auspicio il falò con l'alloro che ha bruciato tutto e bene. Siamo partiti col botto proprio perché è tanto giornata splendida e dobbiamo considerare che erano tre allori uniti e poi aveva una certa altezza, comunque è bruciato, vedo adesso che ormai è quasi terminato. Un auspicio per Chiavari nel 2018? Noi intanto come Rassegna ci auguriamo sempre di andare avanti e portare a termine tutte le nostre manifestazioni. C'è adesso questo problema della Rassegna ma vedo che c'è un'apertura e penso che troveremo una soluzione certamente. L'augurio è intanzitutto di salute che è la cosa più importante, di serenità, di soldi, di palanche come si dice in genovese e le sono le cose più importanti. Noi ci impegneremo per far sì che la nostra città continui a migliorare, a mantenere tutte le priorità, le cose buone che ha la nostra città, la qualità di vita dei nostri concittadini che è riconosciuta da tutti, soprattutto dai turisti. Bene, ora la Rassegna stampa sui giornali in edicola quest'oggi e poi ci ritroviamo con le ultime notizie. Corriere della Sera titola Renzi, vero il calo in consenso, non sono più ai livelli del 2014, dice il leader del PD, ma la squadra c'è e saremo il primo partito, Orlando potrebbe darci una mano invece di polemizzare. E sotto invece l'attentato sventato grazie a Trump, un attentato terroristico che alcuni aderenti all'ISIS stavano mettendo a punto a San Pietroburgo, Putin riconoscente chiama The Donald. Vittorio Emanuele, terzo a Cuneo, protesta alla comunità ebraica, sepolto Vicoforte, la sinistra chi ha pagato il volo. E poi per il calcio, il Milan crolla a Verona, Gattuso chiedo scusa. Andiamo all'interno del Corriere della Sera, violentata e poi strangolata, Beirut morte di una diplomatica britannica trentenni, il suo corpo ritrovato in strada nella capitale libanese, ora si indaga su questa vicenda internazionale. E andiamo invece sul secolo XIX, no al Biotestamento, diocesi e cei fanno muro, invito all'obiezione degli ospedali e alla tutela giuridica, ma la senatrice PD, madrina del testo, avverte che il rifiuto è un reato. Per lo sport la Sampe si smarrisce, il Genma chiude la porta, Brucercati biattuti in casa 1-0 dal Sassuolo, 0-0 rosso-blu a Firenze, Giampaolo ha necessità di avere un piano B, adesso Ballardini deve puntare sull'1 fisso. E poi l'inchiesta, gli OGM nascosti incombono sul cenone bio degli italiani e dal nostro territorio tragedia sul lavoro, otto ore di intervento per l'operaio ferito. Andiamo nel Levante, il marinario ferito operato per otto ore, tragedia sul lavoro a Lavagna, disposta all'autopsia della Salma, il comandante Vincenzo Anselmi, speranze per Paolo Coe, dopo un intervento a San Martino forse potrà tornare a utilizzare le gambe. Prelevati nella sede di acqua, documenti utili alle verifiche, disposta una perizia sulla gru. Vicini alle famiglie delle vittime, il sindaco Bagnasco su Facebook, cordoglio di tutta Rapallo, la città sconvolta dall'incidente, ha caduto davanti a Cava di Renelle, ma con le due vittime, entrambi rapallesi. Andiamo sempre all'interno del secolo XIX, incidenti stradali, il record dei genovesi al volante, nessuno fa peggio in Italia, in provincia sono 15,5 ogni mille autovetture circolante, soltanto a Milano si registrano più pedoni e ciclisti investiti. Questi sono i dati dell'ultimo rapporto dell'ISPRA. Saranno celebrati oggi pomeriggio i funerali di Antonio Olivieri, l'artigiano di 50 anni assassinato lo scorso 23 novembre nello scantinato di casa sua in Viale Roma a Sestri Levante, ricorderete il grave episodio di cronaca. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio alle ore 15. Per gli altri aggiornamenti di cronaca andiamo in redazione dove è pronta Emanuela Castello. A te Emanuela. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Resta ricoverato in prognosi riservata al Policlinico San Martino di Genova Paolo Co, 27 anni, il marittimo rimasto gravemente ferito nell'incidente sul lavoro che è avvenuto nella mattinata di sabato nel mare di Cavi di Lavagna. Nello stesso tragico fatto è morto Vincenzo Anselmi, 54 anni, originario di Milano ma residente a Rapallo. I due stavano lavorando a bordo di una chiatta sull'impianto di maricoltura che si trova davanti alle coste di Lavagna quando un cavo si è spezzato avvinghiando la vittima e ferendo gravemente il 27enne che ha cercato di prestargli aiuto. L'esatta dinamica e le cause dell'incidente sono attualmente in fase di ricostruzione. Il sostituto procuratore Marcello Maresca ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima mentre Co è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico proprio al Policlinico San Martino dove è stato trasportato immediatamente dopo l'incidente. L'ospedale nel pomeriggio diffonderà un bollettino medico. È tutto linea allo studio. Bene grazie, concludiamo con le notizie di sport. Iniziamo dal calcio e dai risultati della Serie D. La Lavanese ha ritrovato la vittoria ed è avvenuto sul campo del Viareggio, una delle favorite del campionato che non aveva mai perso in casa. La partita è finita 3-1 per gli uomini di Mister Venuti. Risultato importante anche per il Sestri Levante che ha bloccato sull'1-1 la capolista Ponsacco tenendo dunque aperto il campionato visti i risultati delle altre squadre impegnate nell'inseguimento della prima della classe. E concludiamo con la pallanuoto in A1 maschile. La Proreco ha battuto in trasferta la Cannottieri Napoli 12-4. In auro femminile la Rapallo pallanuoto ha vinto al Poggiolino contro il prebiscito Padova 6-5. Gol partita sul finale del quarto tempo di Carolina Marcialis. Scendiamo in A2 maschile. La chiava rinuoto che ha visto il rientro in acqua di barrile e in panchina di mangiante ha perso in casa 7-5 contro il Presidente Bologna nonostante la buona partita disputata dai chiavaresi. Infine il derby Ligure. La rarinante Scamogli ha avuto la meglio sul Lavagna 90 per 7-6. Si conclude il nostro telegiornale. L'appuntamento torna alle 19.15 con Tigugli oggi. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.